Allora, farò un po' di ripasso, però velocemente, perché poi c'era il problema di lasciare un argomento di sospeso, che era la misura del tempo, quindi alla fine aveva fatto tre cose su quattro, anche se la quarta è quasi bassa come le altre tre, perché c'è da un sacco di piccole cose. Vado velocemente a fare il ripasso. Allora, abbiamo ripassato già un'altra volta i modi della Terra. A noi in questo momento ci interessano fondamentalmente due, che sono la rotazione, la rotazione, la riduzione e la precisione. Velocissimamente la rotazione è quella che conosciamo tutti, la terra porta sul proprio asse nel senso anti-orario guardando da sopra il polo nord. Ok? Questa rotazione è molto precisa, quindi potrebbe essere considerata un orologio molto preciso. La durata non è proprio 24 ore, come tutti qui iniziamo, e poi vedremo anche il perché, la velocità del quattore è molto alta, 1670 chilometri per ora, molto alta per quello che sono per le velocità quotidiane. Gli effetti prende la rotazione molto velocemente il giorno e la notte dipendono dalla rotazione della Terra, perché a noi dà la sensazione di vedere il Sole che sorge a oriente e a molto occidente, e ci dà anche la sensazione che tutta la volta celeste ruote ritorna a noi una volta al giorno. avamparato del concetto di culminazione degli astri, in questa rotazione quando un astro raggiunge la sua massima attenzia sull'orizzonte si dice che ha la sua culminazione, quindi è il punto più alto raggiunto dall'astro. Secondo modo è la rivoluzione, quella per cui una Terra ruota attorno al Sole su una propria orbita, anche lei è in senso diretto, quindi in senso anti-orario, e avviene in circa 365,25 giorni medi, è tutto circa, ma poi quando facciamo il tempo vedremo perché è tutto circa. Gli effetti della rivoluzione, il principale è il ciclo delle stagioni, l'inizio di secondaria è la stagionalità delle costellazioni, è un effetto che noi vediamo, non lo vediamo perché di giorno quando il Sole è in cielo, in cielo diventa azzurro, quindi non ci consente di vedere le altre stelle, ma se potessimo spegnere l'azzurro del cielo, vedremo che il Sole, giorno per giorno, si sposta sulla volta celeste, che invece si ripropone sempre identica. Sto arrivando velocissimo, eh? La precessione, l'ultimo moto che ci interessa, la precessione è quel moto per cui l'asse della Terra, che è inclinato rispetto al piano orbitale, non sta nemmeno fermo, ma fa quello che fa una trottola, che è il modo di precessione. La precessione è un moto che invece è orario, quindi rispetto agli altri modi gira in senso orario. Quindi è opposto al senso della rotazione. Il periodo della precessione è lunghissimo, circa 25.800 anni. Quindi questa trottola che il cui asse è vuota, diciamo, a inuto, vediamo di a cono, questo uso, un giro di questa rotazione, avviene nei circa 25.800 anni. Gli effetti sono lo spostamento della volta celeste di quello che è il volo nord-celeste, velocemente il volo nord-celeste è il prolungamento del cielo del nostro assi di rotazione, fate finta che buchi in cielo. Questo punto dei 25.800 anni si sposta sulla volta celeste. Quindi la stella, quella che noi chiamiamo stella polare, cambia nel tempo. Ci saranno periodi in cui non c'è nessuna stella polare, cioè non c'è nessuna stella vicino a questo punto ideale del prolungamento dell'asse di una versione terrestre, ci saranno periodi in cui una stella polare non è più quella nostra, ma è un'altra. Un altro effetto è che il punto gamma che poi introdurremo si sposta anche lì, anch'esso nel tempo. Lasciamo prendere la notazione. Abbiamo visto brevemente come misurare gli angoli in cielo con le mani e l'hanno introdotto cos'è un cerchio massimo. Un cerchio massimo è questo qua, un cerchio rosso. È un cerchio che si forma quando noi tagliamo una sfera con un piano che passa per il centro. La linea che si forma è un cerchio, e si chiama cerchio massimo perché il cerchio è più grande che si può fare sulla sfera, ed è per chi camminasse su una sfera senza fare curve, quindi se noi partissimo iniziassimo a camminare, facendo il giro del mondo, cammineremo su un cerchio massimo. Quindi è l'equivalente della linea retta su una superficie sfera, dice l'aeroplano, che è convinto di andare dritto, cioè di non muovere la croce a destra e a sinistra, e in realtà sta facendo un cielo su un cerchio massimo. Ci sono cerchi non massimi e hanno introdotto come si misurano gli angoli in cielo. Quasi qua ho trovato un sacco di cose su internet. 10 gradi la mano, 20 gradi la mano aperta, 1 gradi di eccetera eccetera. Questo era un esempio. Ecco, questo è molto importante. Gli angoli in cielo li possiamo misurare in gradi oppure in tempo. Perché? Ma perché più o meno, se noi consideriamo che un giro della Terra avviene in 24 ore, e un giro della Terra è di 360 gradi e l'angolo in giro, abbiamo l'equivalenza per cui un'ora corrisponde a 15 gradi. Un minuto di tempo corrisponde a 15 primi di angolo e un secondo di tempo corrisponde a 12 secondi di angolo. Quindi è abbastanza facile. È sempre per i 12. Avevamo introdotto le coordinate celesti, ma ci serve da dire di tutto di più. Facciamo direttamente il primo sistema, il sistema azienditale, quindi di caratteristica. Questa qua non c'è la Terra. Ecco, ha la caratteristica che il cerchio massimo di riferimento è quello che si chiamano le zone, perché il cerchio, che se ne immaginiamo di avere un piano che passa per i nostri occhi inter, cerca la porta celeste. È un cerchio massimo. Tutti i cerchi minori sono quelli che diventano via via più piccoli, fino a, guardando in alto, un punto che sta esattamente sopra la nostra terza che si chiamano azienditale. Quindi le coordinate azienditali, una si chiama altezza, quindi quanti gradi io devo guardare in alto, e l'altra si chiama aziendit, che è quanti gradi io devo guardare verso destra partendo dal punto del nord. Ok? Da su c'è scritto 0 sul nord, 10, 20, 30, 40, quindi a 90 gradi ci sarà l'est, a 100 gradi ci sarà il sud, e a 200 gradi ci sarà l'ovest. Quindi se io vi devo dare un punto nel cielo, vi posso dire, guardate ad altezza, 30 gradi, anzi 130 gradi, e voi individuate 30, 90, 100, 110, 130, individuati a questo punto qua. Ok? Altezza 30, anzi 130, sono velocissimi che lo scusa, ma se no non ce la faccio più. C'erano un sacco di nomi che lasciamo stare. Ecco, il green e l'alto azienditale è che le due coordinate dipendono sia dalla nostra posizione sulla terra, meditato un astro, una certa stella, un certo punto del cielo. Le coordinate cambiano se mi sposto sulla terra, quindi un sistema locale, cioè che ti vede da dove io sto. Quindi se è quello che sta in Spagna e gli dico guarda e gli do le mie coordinate altazimutali, lui guarda lì e vede un'altra cosa, non vede la stessa cosa, e dipende sia dal tempo che scorre. Quindi se io mi scrivo adesso, ah, ho visto una cosa con queste coordinate altazimutali, tra un'ora torno e riguarda quelle coordinate, il cielo si è spostato e quindi non vedo di nuovo la stessa cosa. E avevamo visto che era un sistema molto debole. Uno più fulgo era un sistema equatoriale. Ce ne sono due. Uno è questo qua, locale, che ci sono i concetti che poi servono. Quindi stavolta la sfera di riferimento non ha più come asse lo zenith, la linea che passa per me è lo zenith e come centro di riferimento l'orizzonte, ma cambiamo tutto. Usiamo come asse di riferimento un asse parallelo all'asse di rotazione terrestre. Levando ogni numero di parallasse, usiamo l'asse di rotazione terrestre. E il cerchio massimo è l'equatore celeste, che possiamo pensarlo come la proiezione nel cielo del nostro equatore. Qua sullo stellarium io potevo accedere con le opzioni l'indicatore l'equatore. Ricciolisco un po'. Ecco, metto il pavimento. Vedete, qua siamo più in le nostre latitudini, penso, Savona. L'equatore celeste, quindi, è questo cerchio, che è la proiezione nel cielo del nostro equatore. A un certo punto finisce sotto terra, e dalla parte opposta a nord, la sua in cima, se io mi giro, ho il centro, l'equipalente dello Z, per farlo vedere, accendo quest'altra linea, ed è questo punto qua. Questo è il puolo nord celeste. Qua vicino c'è una stella di cielo pubblica, che è la nostra stella volante, vedete? Quindi la stella volante è stata proprio precisamente nel puolo nord celeste, ma ci sta molto vicino. Ecco, se l'asse di riferimento è quello, e il cielo di riferimento è l'equatore, a questo punto ci manda soltanto una linea che si chiama linea del meridiano, che possiamo farcela disegnare, che è molto semplice capire che cos'è, e questa linea verde è quella linea che passa sullo zenith e nel puolo nord celeste, quindi è un cerchio massimo che passa sopra le nostre teste, quindi sarà sopra il nostro sistema locale, che passa sopra le nostre teste, e passa nel puolo nord. Se io rinacendo, vado di nuovo a vedere a nord, e rinaceno ancora la velocità montale, vedete? Il meridiano passa sia dal puolo nord celeste che dallo zenith, sopra la testa. Questa linea qua incrocia il nostro orizzonte nei punti nord e sud. Quindi la definizione di nord e sud deriva proprio dalla linea del meridiano locale, cioè questo cerchio che passa tra zenith e nel nord celeste che intercetta l'orizzonte nel nord e nel sud. Vedete che l'equatore e il meridiano si intercettano in un punto. Questo sarà il sistema di riferimento del sistema di coordinate orarie. E quindi avremo due possibilità. O ci spostiamo verso l'alto dell'equatore o verso il basso, e ci spostiamo o a destra o a sinistra rispetto al meridiano. Queste due coordinate hanno due luoghi. Quello orizzontale si chiama angolo orario perché non misuriamo a misurare di nuore piuttosto che in gradi, mentre l'angolo rispetto al quattore si chiama declinazione e potrà essere positiva se ci stiamo un momento verso il puolo nord celeste e negativa se ci muoviamo verso il puolo sud celeste. Se poi guardate qui sull'angolo, ancora abbiamo la griglia alta zenitale, vedete? Qui c'è i cerchi minori di accidenti di 30, di declinazione 10, 20, 30 e qui c'è un meno 10. Ora io qua posso togliere il pavimento. Vedete? Andando verso il basso, meno 10, meno 20, meno 30, fino a meno 90 gradi dove c'è il puolo sud, che non possiamo vedere perché c'è la terra, e fino a più 90 gradi dove c'è il puolo nord. Vedete? 20, 30, 40, 60, 70, 80, 80, con il cerchio lì, 90, coincide col punto che è il nostro puolo nord celeste. Quindi, se noi cominciamo a misurare gli angoli in questo modo, abbiamo un sacco di vantaggi. Il primo vantaggio è che se io faccio passare il tempo molto più velocemente, vedete le stelle cosa fanno? Le stelle seguono i cerchi di declinazione. Quindi, un astro fisso sulla volta celeste ha una definizione costante. Quindi io già, se comunico a uno, guarda un po' un astro ha definizione, che ne so, 21. Già lui, ovunque sia sulla terra, o qualunque sia il momento in cui osserva, sa che deve cercare su un unico cerchio. Già, rispetto a una palla intera, per un unico cerchio su cui cercare, non è male. Invece, l'angolo orario, siccome è l'angolo che fa vedo anche l'atmosfera, se no ci va passato. Siccome l'angolo orario è l'angolo grafico, meridiano, è l'oggetto che noi stiamo osservando, supponiamo questa stella, e questo purtroppo varia ancora col tempo. Non solo, ma varia anche con la posizione. Se io mi sposto sulla terra, se io fermo il tempo, fermo il tempo, se io adesso cambio l'abitudine mi sposto sulla terra, il meridiano non passa più in mezzo a queste stelle, ma passerà in mezzo a altre stelle. Quindi ancora il sistema locale, torniamo qui, e ancora il sistema locale, questa è la sua rappresentazione, vista da fuori, la terra sta nel mezzo di questa palla, i cerchi rossi sono le fette dell'equivalente dei medigliati terrestri, la riga blu è l'equatore celeste, quella che abbiamo visto prima orientata, lasciate per loro stare la riga verde. Quindi, l'angolo orale viene ancora dalla luce di mille del luogo e dal tempo. Comunque è molto più facile convertire l'angolo orale basta fare semplici somme rispetto a fare delle conversioni di alzi di altezza dove bisogna infilarci dentro un sacco di matematica. e alla fine avendo tutto il vero sistema equatoriale però prima bisogna capire cos'era quella l'unica di quella vita verde, l'eclipica. Vi ricordate che prima la rivoluzione della terra ha un effetto che se noi pensiamo di essere fermi, quindi ci diciamo in uno sistema di riferimento dove noi siamo fermi, noi vediamo il sole che giorno per giorno cammina sulla porta celeste. Questo ve lo posso far vedere, io spengo l'atmosfera, una cosa che qua non si potrebbe fare. Ok? Questo è il sole, se io adesso faccio passare i giorni, no? Se io faccio passare i giorni, allora guardate il sole, ah, qua c'è un trucco per far passare un giorno, considerate. faccio passare un giorno, guardate il sole rispetto a sfica, faccio passare un giorno, guardate, vedete che il sole, sfica, se ne sta andando, ma il sole si sta spostando rispetto alle altre stelle. Vedete che il sole sta convivendo un cammino sulla porta celeste, non sta fermo. Ignorate i pianeti, quindi, io posso chiedere a, posso chiedere al programma di far vedere quest'altra linea che si chiama eclittica, la rossa, e se guardate bene il sole cammina proprio di sopra. per chiarire, se non fosse ancora sufficientemente chiaro, il concetto, c'è questo filmatino che si è fatto. Vedete, quel cerchio bianco è l'orbita della Terra. Adesso lui ci ha messo dentro la griglia equatoriale, vedete che è orientata come l'asse terrestre. Ora lui riesce fuori, lui diceva vedere la griglia equatoriale, e ora si mette, disegna il piano dell'equipita, cioè disegna, scusate, il piano dell'orbita terrestre, vedete? lui adesso disegna il piano dell'orbita terrestre, questo piano sega la sfera equatoriale in un altro cerchio massimo, la più bassa per il centro. Questo cerchio massimo è l'equipita. vedete? Questa è la Terra, adesso ci siamo nei sistemi di col sistema equatoriale e questa è l'equipita. Vediamo lì il Sole, tac, coincide proprio con l'equipita. Quindi abbiamo un nuovo cerchio che non c'entra più niente con la rotazione terrestre, ma c'entra con la rivoluzione terrestre che è l'equipita. Perché tutto sta pensata? Tutta sta pensata ci serve per individuare un nuovo punto prima sull'equatore celeste che era un buon sistema. avevamo individuato un punto con il meridiano e il raggio che non conosce che c'era qua. Avevamo individuato questo punto qua come punto di zero. Però aveva dei difetti perché il meridiano si sposta quando noi ci spostiamo in longitudine sulla Terra. In più gli altri si muovono rispetto al meridiano. l'equipita ci serve solo per andare a individuare un nuovo punto sull'equatore e questo questo punto qua e noi adesso usiamo questo punto qua come punto zero del nostro sistema. infatti se ecco non si vede però questa linea qua questo meridiano celeste è il meridiano zero. Ok? Perché è il meridiano che passa per il cosiddetto punto pernale. Il sole domanda l'eclipica in quanti punti intersi dall'equatore? In due uno e qua e uno dalla parte opposta. Quindi di questi due punti se ne deve scegliere uno come zero. Sono andato velocissimi e mi chiedo scusa. Si sceglie il punto in cui il sole sta salendo in declinazione. Visto che il sole è che ha semplice passati giorni il sole cammina sull'eclipica vedete che la declinazione del sole sta andando verso i meno 10 gradi quindi si sta avvicinando sempre di più all'equatore celeste. Ora sarà meno 5 meno 4 meno 3 meno 2 meno 1 qua il sole è esattamente su quel punto lì siamo nei quinozzi di primavera e noi l'abbiamo scelto come punto di riferimento del sistema di coordinate equatoriali. A questo punto se io trovo un oggetto qualcosa da vedere nel cielo e i do le coordinate in questo sistema qua ovunque siete sulla terra c'è qualunque sia la vostra ora le coordinate non cambiano più. Quindi il sistema ideale per comunicare le coordinate adatte a gli astronomi che sono quindi non c'è un sistema di un marchio questo è migliore per indicare poi vedremo che per muovere lo strumento lì migliore era l'equatoriale orario quindi punto per nara per visto cos'è punto via via che si chiama punto gamma perché si involuzza via caro della dieta su miglia dove era gamma da una parte posto c'è punto di bilancia o punto omega che è quello del suo stile di nozio di autunno ma la domanda è qual è la declinazione del sole quando passa per il punto gamma visto che il punto gamma è sull'equatore l'equatore ha declinazione 0 quando il sole passa per il punto gamma ha declinazione 0 e siamo nel momento e siamo nel momento degli equinozi quindi gli equinozi sono gli stanti poi noi facciamoci del polire della giornata però sono gli stanti in cui il sole ha declinazione 0 quando è nel punto gamma si chiama primavera quando è nel punto omega si chiama autunno quindi all'equinozi succede questo i raggi paralleli del sole arrivano sulla terra dell'equatore viceversa quando il sole raggiunge la sua massima declinazione positiva sull'orizzonte chiamiamo quei distanti sostizio d'estate e la declinazione è 23 27 gradi che è l'intinazione dell'asse terrestre rispetto al piano di tali complementari quando il sole raggiunge la sua massima declinazione negativa sotto l'equatore celestero chiamiamo sostizio di inverno di nuovo lo possiamo vedere solo stellare ora se io clicco sul sole poi mi fa vedere r a di ecco guardate questo numero a 0 gradi 0 4 quasi a primavera se io faccio passare vedete che la declinazione del sole comincia a salire 3 4 5 6 13 14 15 16 16 19 20 21 22 vedete che ci stiamo avvicinando 21 giugno ci viene di nuovo ho detto c'è 23 26 ecco questa c'è 21 giugno è il punto massimo 23 26 12 per trovare il punto massimo di sulle ore sui minuti e anche sui secondi diciamo momenti in cui il sole è al suo massimo viceversa quando il sole scelgo giù passato nel punto omega quindi poi c'è stato l'epinastro 1 scenderà in declinazione fino al sospizio in inverno ai solstizi cosa succede succede che la terra ha la sua massima inclinazione rispetto ai raggi solari quindi abbiamo una parte di mondo molto più illuminata e una parte di mondo molto meno illuminata siccome noi siamo più bravi che abbiamo estate perché siamo noi siamo molto più illuminati quindi di sotto c'è l'inverno quando noi viviamo l'estate chi è che si decca il raggio a picco sono quelli che vivono su questo cerchio qui le quattro ore è finito qua quindi le quattro ore non hai raggi a picco durante lo sospizio chi ha i raggi a picco sono quelli gli uomini facciamo quindi guasciano testa sono quelli che stanno in piedi in questo punto che sono quelli che stanno sul centro dei tropici ok quindi i tropici hanno un giorno all'anno in cui hanno il sole perfettamente sopra la testa non fanno ombra oltre i tropici questa cosa qua non avviene noi stiamo sopra i tropici quindi da noi non esiste i momenti in cui il sole è perfettamente sopra le nostre teste per tutti quelli che vivono nella fascia tra i tropici e l'equatore quindi tra i due tropici ci sono dei momenti in cui il sole è esattamente a picco questo è un graffittino che rappresenta l'arrivare del tempo durante l'anno la declinazione del sole i cerchetti azzurri sono i pinozzi la declinazione è zero i cerchetti arancio sono i pinozzi sono i pinozzi perché a caso della percezione degli epinozzi l'equatore si sposta cambia no l'equatore si sposta rispetto all'equatore quindi il punto gamma si attacca la precisione in modo orario il punto gamma cammina nella voda celeste in modo orario ora per noi non è un grosso problema questo perché ricordate che ci mette 25.800 anni per i nostri anni il movimento del punto gamma sulla voda celeste è talmente piccolo che però se voi guardate qua sullo stellarium abbiamo due coordinate in declinazione una è quella della Dara quindi di adesso l'altra è quella di 2.000 cioè di un certo distante di gennaio 2000 che vedete che già le due non coincidono di poco un secondo 2,4 gradi quindi la definizione del sole dovrebbe essere 23,26 e 11 rispetto al punto gamma di gennaio 2000 in 13 anni e qualcosa questo punto gamma si è spostato di un filino e già sono fuori di un secondo e quattro quindi se io volessi fare i campi veramente precisi sotto la precisione con la precisione del secondo non posso trascurare la differenza di coordinato il fatto che a questo punto gamma sia un posto in senso radio ecco e qua è una domanda di sera più o meno qua quindi l'ultima cosa che aveva l'anegra ma allora se questo punto gamma è un punto fisso possiamo usarlo come un orologio cioè tutte le volte che il punto gamma passa dove al solito mediano possiamo dire bene io sono dove è tutto gamma quando lo vedo passare sul meridiano resetto il mio orologio lo faccio cominciare a contare si si può fare questo cosa qua la facciamo tenendo come tempo l'angolo orario che riguarda che si chiama tempo sterale ce l'avevamo fermati qua qua c'è una piccola tabellina che è piassunto ah una parola di nomenclatura quando usiamo il sistema quattoriale il cosiddetto la scissa sferica non si chiama più angolo orario ma l'angolo rispetto allo punto gamma che noi misuriamo su del quattore per trovare il tempo si chiama ascensione retta indicata con alfa anche qua la cosa è misurata o in gradi o in ore minuti e secondi e a questo punto con la parola giorno siderale viene con la domanda ma allora che cosa è un giorno cioè che cosa è che noi chiamiamo giorno e a questo punto parliamo tutta una serie di audizioni guardare giudendo perché adesso cambia l'ora il grasso il massimo cambiandolo non ho messo un'ora legale perché mi sembra la meglio nota quindi adesso cominciamo a parlare di diversi modi in cui possiamo visualizzare il tempo quindi tempo siderale due tipi di tempo solare poi vedremo perché ce ne servono due un tempo universale che cerca di mettere d'accordo tutti che sono una conseguenza di quanto detto iniziamo dal tempo siderale dal quale ho appena detto il tempo siderale che erano ts tempo siderale è l'angolo orario del punto gamma gamma ok l'ora 0 sia quando il punto gamma transita sul meridiano superiore quindi se io prendo stellarium mi metto sul meridiano sul meridiano il punto gamma è andato via faccio passare un po' di ore ecco qua il punto gamma che sta arrivando al meridiano quando il punto gamma è sul meridiano è l'ora non desiderare ok relazione ecco la relazione tra l'ascensione aventa alfa e l'angolo radio alca grande allora visto che il punto gamma era il punto zero del sistema di riferimento equatoriale la domanda è quando vale l'ascensione retta di alfa il 6.0 vala zero quando vale la declinazione di alfa alfa è il punto zero quindi vale zero abbiamo scelto noi come punto zero ok quindi la definizione di tempo siderale ts è uguale all'angolo radio di gamma ma questo va in generale per un punto della sera che il tempo siderale è l'ascensione retta di quel punto più il suo angolo radio fidatevi per il momento a questo cosa ci serve ci serve per legare in maniera molto semplice l'ascensione retta guardate qua io dovevo parlare con l'astronomo cinese quindi guarda un progetto all'ascensione retta le 5.42 ok lui dove fa a trovarlo in cielo l'ascensione retta 5.42 lui basta che sappia qual è il suo tempo siderale a quel punto io gli ho detto questo numero lui conosce questo in un attimo si è cavata anche molto facile da guardare basta guardare meridiano e ogni ora sono 15 gradi quindi lui in un attimo sapendo il suo tempo siderale e l'ascensione retta che io vi ho telefonato in quel momento no perché in Cina però a 4 l'arro l'orario di quel calcolato rispetto al suo tempo siderale è in una zona di cielo visibile lui può vedere quello che lui sta facendo vedere è chiaro discorso quindi questo trucco qua di aver scelto un angolo orario che cresce andando a destra un'ascensione retta che cresce andando a sinistra in senso antiorario e questo l'abbiamo visto l'altra volta mi scuso per la brevità la sova di questi due esce fuori sempre costante e del tempo siderale il tempo siderale è un tempo locale perché? ma perché dipende dal nostro meridiano quindi il tempo siderale è conducito con l'ascensione retta dei punti che stanno passando sul meridiano deriva sempre dalla formula di prima quindi noi prima sapevamo che T s uguale a più alfa alfa più h i meridiani punti hanno alfa o quale 0 perché il meridiano è il sistema di riferimento dove h l'angolo orario è 0 ma allora il tempo siderale è alfa dei punti che stanno sul meridiano se torniamo su stellari ora qua il punto che sta in meridiano chi è? è proprio il punto alfa l'ascensione retta del punto gamma l'ascensione retta di gamma quant'è? 0 quindi è l'ora siderale 0 se io faccio passare un po' di minuti e mettiamo che io prendo questa stellina qua come riferimento quando questa stellina passa quando questa stellina passa sulla linea del meridiano l'ora siderale è l'ascensione retta di questa stellina quindi sono le 0 e 20 minuti siderali quindi tutti i punti che che transitano nella sfera celeste quando passano sul meridiano ci sentano l'ora siderale quindi se io voglio regolare il mio orologio siderale cosa faccio? faccio in modo uno strumento di avere una linea che mi identifica il meridiano le coordinate stellali sono note perché sono dentro i cataloghi quando io vedo una certa stella che passa nel meridiano io so esattamente che l'ora siderale è la sua ascensione retta quindi questa è una tecnica da una parte per ricavare l'ora siderale dall'altra la possiamo usare per trovare un oggetto nel cielo quindi notate che finora abbiamo usato solo delle somme non abbiamo fatto nessun altro tipo di operazione mandemata quindi quando il punto gamma si trova sul meridiano abbiamo detto che l'ora siderale è le zero quindi è la pezza corte siderale purtroppo abbastanza chiaro capisco che magari non dovrebbe essere mandimino forse mi sono certo prima di dare velocità perché sono stupi adesso non sono stupi adesso è una forma di allenziale con i nomi a sfum cosa si può mettere perché si chiama siderata perché è un'ora che è nata dall'esterno ovviamente qui il sole non c'entra niente quindi se noi regolassi i nostri orologi sull'ora siderale noi man mano che passano i giorni avremo le mezzanotti dell'ora siderale un po' coltuglio un po' di una luce un po' all'alba e un po' al trapunto del sole quindi per noi non abbiamo una gran ora perché quest'ora siderale dipende solo da come si muove il punto gamma ma qui è visto che il sole col punto gamma non ha una gran relazione quindi è un tempo che scorre in maniera diversa da quello che è il nostro tempo quanto diversa non tantissimo non è che se oggi la mezzanotte siderale è in pieno buio domani in piena luce domani è ancora in pieno buio ma un po' meno perché perché durante un giorno siderale quindi un giorno siderale è tutte le volte che il punto gamma ci ripassa sul meridiano ovvero quando la terra fa un giro su se stessa ogni volta che la terra fa un giro su se stessa fa anche un pezzo di orbita sull'orbita che fa torna al sole e non fa un centimetro fa due milioni e mezzo di chilometri di orbita ok questo cosa significa significa che è vero che il punto gamma è tornato dove era dopo un giorno siderale ma il sole non è tornato dove era prima siccome noi ci siamo mossi più un pochino ci serve ancora un po' di rotazione perché il sole torna esattamente dove era questo è il motivo per cui quelle che per noi cominciano a essere le nostre 24 ore non sono le 24 ore siderali se la terra non facesse la rivoluzione quindi fosse ferma rispetto al sole allora un giro dalla terra ci faremo girare l'intera volta celeste quindi potrebbe il punto gamma dove era prima e anche il sole rifinirebbe esattamente dove era prima quindi le due tempi coinciderebbero peccato ripeto che quando la terra ha fatto un giro su se stessa si è anche spostata rispetto al sole e quindi mentre tutto il resto delle stelle è tornata esattamente al loro posto giorno siderale il sole non è tornato proprio al suo posto serve ancora un po' di rotazione quanto un po' di rotazione adesso lo dobbiamo qua c'è un disegno noi siamo noi siamo nel punto di ricordo della freccina rossa questo è una ruota terrestre vista dall'alto quindi vi ricordate la terra che è in i 6 saldi orario l'ho ridetto al sole e anche i 6 saldi orari la freccina rossa noi siamo qua all'istante il tempo passa la terra ancora su se stessa fa un giro completo rispetto alle stelle fisse quindi una stella fissa dove vedevamo in questo punto quando siamo là e se la distanza praticamente infinita la vediamo esattamente dello stesso punto rispetto a noi rispetto al nostro meridiano ma al sole vedete che non è proprio il rottamento si vedeva la rossa si no non mi ha un attore un attorno ma non lo so faccio colonna ok quindi dopo un giorno di 24 ore si darà noi li vediamo le stelle della stessa posizione ma al sole no lo vediamo ancora un po' irritato dobbiamo aspettare ancora un pezzettino perché noi che siamo sulla tricina rossa vediamo di nuovo il sole al meridiano questo pezzettino è la differenza di tempo ora quanto dura un giorno siderale adesso fidatevi di questo numero maturato nell'anno è stata maturata in 365 di 24 ore di due giorni solari si può dimostrare banalmente con un giochino di persone che si girano all'intorno che durante un anno la terra fa una notazione in più rispetto al numero dei giorni quindi mentre per noi passano 365 giorni è un po' in realtà la terra ha fatto un giro in più se non vi fidate c'è un giochino che fa sempre l'acessandro se io non mi muovo e giro attorno alla scrivania senza girare su me stesso io vedo il io vedo io vedo il grazie io vedo la scrivania che il mio computer sorge e tramonta rispetto a me se io facessi un giro su me stesso mi vedrei sempre il mio computer fisso rispetto a me quindi passerebbero 0 giorni solari ma di fare una notazione su me stesso questo è motivo per cui il numero di giorni siderali quindi il numero di rotazione della terra è uno in più rispetto ai giorni intesi come passaggi del sole sopra le nostre teste quindi il capo del quanto dura è semplice perché se consideriamo che i giorni siderali sono uno in più uno in più a questo punto la durata del giorno siderale ognuna dei nostri 24 ore ma le nostre 24 ore per il raccordo di questi due numeri lasciate stare i conti ve lo dico io alla fine il giorno siderale è uscito quel numero vista all'inizio quindi 23 ore e 56 minuti quindi per compiere quel famoso pezzetto di rotazione in più per compensare i 2 milioni e mezzo di chilometri che la terra ha fatto di rivoluzione servono quasi 4 minuti ogni giorno quindi se noi regolassimo il nostro orologio sul giorno siderale ogni giorno il sole arriverebbe in ritardo di 4 minuti e questo è il motivo per cui la mezzanotte è un po' non sarebbe via domanda quali coordinate intese equatoriali di un astro variano dopo un giorno solare solare la declinazione no la declinazione no avevamo scelto il sistema di riferimento quello equatoriale per cui la declinazione restava costante vi ricordate che le stelle si muovevano col tempo giravano intorno a noi ma restavano sempre vicino e quindi distanti dai cerchi dei paralleli celesti l'ascensione retta ma di nuovo no l'ascensione retta abbiamo scelto con un sistema di ricordi di collinate che resta costante quindi dopo un giorno non è cambiato quello alti volte altezza vabbè quelli li cambiano tutti i momenti in realtà quello che è cambiato del sole è il suo angolo radio quindi non si presenta più con lo stesso scostamento dal nostro meridiano di riferimento ok questo è uno degli effetti di questo di questo fenomeno la stagionalità delle posterazioni quando noi facciamo il planetario o quando noi facciamo le osservazioni raccontiamo sempre che ci sono delle posterazioni invernali primaverine autunnali eccetera eccetera bene questa stagionalità delle posterazioni cioè il fatto che noi vediamo trasferazioni diverse in periodi diversi dell'acqua dipende proprio da questi 4 minuti di differenza giornaliera dell'angolo radio del sole quindi ogni giorno visto che il giorno siderale è più corto gli astri si presentano un po' in anticipo di 4 minuti che ora se siamo tra oggi e domani non me ne accordo però quando cominciano a passare le settimane quando comincia a passare un mese cosa succede? succede che questi 4 minuti al giorno per 30 giorni ci danno 120 minuti in anticipo delle postellazioni cioè due ore cioè 30 gradi due palmi quindi alla stessa ora dell'orologio tra un mese una stella che ora stava lì mi sta 30 gradi di angolo orario più a destra anticipato questo provoca la stagionalità delle postellazioni quindi ogni mese io vedo il cielo che ha fatto una fetta di 30 gradi verso destra e quindi man mano che passa il tempo vedo le postellazioni in posizioni diverse e poi alcune non le vedo più e le vedo di nuovo questo fenomeno si chiama stagionalità delle postellazioni se pensavate di aver capito in realtà non è nemmeno così ma perché ma perché qua è tutto un discorso di prendere come punto di riferimento cose terra sulle stelle che in realtà a loro volta fanno le loro tizze cioè non è che questi qua sono rigorosi e l'asse della terra oscilla e il segnale delle attrazioni maiali e tutto molto no però è tutto abbastanza un pochino inestabile quindi non è ancora in realtà proprio così perché perché esiste anche il cosiddetto giorno potuto stellare vi ricordate che noi abbiamo detto che il giorno siderale lo calcolavamo rispetto al punto gamma ma al punto gamma ogni 25 milani fa un giro quindi si sposta quindi se io volessi calcolare il tempo veramente rispetto alle stelle fisse lasciamo stare cosa possiamo intendere per stelle fisse però vediamo se non avvercela qui abbiamo un uocio un uocio che è legato veramente solo alla rotazione della terra perché perché non che prima anche prima dovevamo farlo rispetto al punto gamma che si sarà mosso di poco ma un po' si è mosso quindi quest'ora non tiene conto della precessione degli equinozi la differenza che la giorno siderale e il giorno stellare non è più 4 minuti ma è 8,4 migli secondi quindi veramente li possiamo pensare quasi coincidenti a meno che non stiamo facendo calcoli di natura veramente precisa giorno stellare e giorno siderale possiamo considerare di fatto come la rotazione della terra però tenete conto che ogni giorno ci sono 8,4 20 secondi in differenza quindi il giorno siderale 23 ore in giorno stellare 23 ore 56 minuti e 4,0989 secondi quindi è un filino diverso dal giorno siderale e questo è proprio a livello di completezza però c'è anche la differenza fondamentale quella che ci dà qualche effetto per noto tangibile è la differenza tra giorno solare che poi vedremo che cos'è e il giorno siderale che abbiamo più ritrovato quei famosi 4 minuti che ci spostano il cielo ogni giorno questo punto per alleggerire possiamo parlare del puntamento di un telescopio ma quando vogliamo puntare un telescopio con una montatura fatta come quella verde tutta svilenta noi quindi non usiamo un telescopio alta-zimutale quindi di quelli fatti a forchetta che ruotano e si alzi ok? ci siamo in metà in una montatura perché abbiamo spostato il nostro sistema di riferimento non più in un sistema ocazimutale ma siamo andati a lavorare sulle coordinate fattoriali locali quindi questo questo oggetto qua cosa fa? noi lo piazziamo allineato al nostro meridiano ok? quindi questa direzione qui se noi facessimo un piano che passa per questa direzione qua ci individuerebbe sul cielo con la famosa linea verde il meridiato locale e quindi questo oggetto qua cosa fa? si muove con le due coordinate che abbiamo visto l'altra volta e passate velocemente oggi delle coordinate equatoriali locali ora qua invece ho un laser ecco questo laser qua allora ecco lì quello lì è l'intersezione tra la linea verde e l'equatore celeste quindi quando questo oggetto qua compie uno dei suoi due movimenti cosa fa? cammina lungo i cerchi i palli e i celesti ok? quindi sta a bovino l'angolo orario vedete questo qua è ad angolo orario zero quasi zero così non va se io mi metto qua a un palmo sono ad angolo orario 15 se faccio un altro palmo vado ad angolo orario 30 o 2 ore se faccio un altro palmo vado ad angolo orario 45 o 3 ore ok? quindi uno dei due movimenti di questo oggetto è l'angolo orario l'altro movimento invece è questo che è la declinazione quindi qua siamo a declinazione zero quindi siamo sull'equatore se io alzo aumento la declinazione supponiamo più o meno 45 gradi se ora io faccio variare l'angolo orario qua abbiamo proprio il senso che compiono le stelle quindi le stelle si muovono lungo un cerchio che fa così sopra le nostre teste se aumentiamo ancora la declinazione la portiamo sempre più vicino ai 90 gradi quindi sempre più vicino al polo celeste i cerchi sono sempre più piccoli vedete se aumentiamo ancora la declinazione fino a 90 gradi a questo punto questo punto qua resta quasi fermo quello è il punto di rotazione della terra se questo possa liberare non è ecco i cerchi sono sempre più piccoli ora guarda non potranno mai essere lunghi perché appunto vedete che la luce si sposta da qua a qua questa distanza e corda quindi non vedrò mai un cerchio perfettamente nudo però tenete modo che sui distanze infinite praticamente è come se cerchi fosse nudo qua per motivi tecnologici è impossibile mettere i due fonti di rotazione perfettamente coincidenti in un punto tecnologicamente non si può qua c'è un asse che è qui l'altro asse che è qui e quindi sono leggermente i loro centro di rotazione sarebbe qua dentro cioè il mio laser dovrebbe essere disassato però alla fine per oggetti che sono infinitamente distanti come le stelle questa differenza di asse è praticamente trascurabile quindi detto questo possiamo fare una pesante su come si distinta un telescopio quindi le coordinate della postura equatoriale sono coordinate sempre sferiche dove la direzione principale è l'asse terrestre e quindi la scissa è nato l'orario e l'ordinata è la definizione quindi se noi dobbiamo puntare una stella avendo messo un telescopio come messo quello là quindi noi lo alziamo della nostra latitudine in maniera che vada a puntare sulla stella polare lo orientiamo in maniera che punti il polo nord celeste una volta che questa linea qua punta sul polo nord celeste a questo punto il risuolo il risuolo di menso di declinazione è in angolo orario ma allora per puntare il nastro come facciamo? noi in un nastro cosa conosciamo? conosciamo le sue coordinate equatoriali prese da un catalogo quali sono? la declinazione e l'ascensione retta che vi ricordo erano quelle due coordinate equatoriali cosiddette equatoriali assolute perché comunque non hanno non cambiano con cambiare la posizione sulla terra e non cambiano nel tempo quindi sono delle classiche coordinate usate per la comunicazione e quindi su di atlanti noi troviamo queste due coordinate qua declinazione ascensione retta allora la declinazione gratis è la stessa identica coordinata quindi se voglio puntare un nastro a declinazione 12 gradi basta che io vado là a lavorare la declinazione su 12 gradi alla tedesca tac e sono già su un cerchio giusto dove c'è il mio astro a questo punto c'è solo un punto da fare mi basta convertire l'ascensione retta nell'angolo orario a questo punto riesco anche a fare l'altro movimento del numero di gradi che mi porta a vedere il nostro a puntare il nostro è complessa questa conversione? no siamo un'unica scena abbiamo fatto tutta questa montatura sbilenta perché poi per convertire l'angolo orario in ascensione retta riutilizziamo la formula di prima il tempo siderale è sempre uguale alla somma dell'ascensione retta e dell'angolo orario di un punto quindi se io voglio l'angolo orario nel punto prendo il mio orario siderale che c'ero lì prendo l'ascensione retta dal catalogo faccio una differenza e a questo punto c'è esattamente l'angolo con cui devo scostare dal meridiano il mio la mia montatura questo è il motivo per cui negli osservatori serici sono attaccati a uno gli orari che hanno un tempo siderale così ci vanno sempre a portata di mano ok ce l'avevano oggi con il computer e tutto il resto tutti questi conti se li fa il computerino e quindi ci muove anche i motori fatto da solo ma fino a pochi anni fa avere lì un orologio siderale per puntare un oggetto così in un punto del cielo era fondamentale perché io al volo con una semplice differenza avevo subito l'angolo in cui mettere l'angolo orario la definizione concilia quindi in un attimo io ho puntato il mio oggetto poi è vero che questo oggetto sta notando e quindi comunque l'angolo orario una volta che l'ho fissato dove l'ho fisso deve già cominciare a cambiare alla cadenza di un orologio siderale e va bene è vero quindi ci vorrà un motorino calibrato in maniera tale che faccia in modo che l'angolo orario di quella fare di campi con la cadenza del tempo siderale e in questo modo la potenza dice insegue la stella perché se io passi la stella succederebbe questo lo faccio vedere se io punto questa stella e comincia a gradire e magari a partire il tempo succederebbe questo fenomeno una volta quindi più ingrandisco questa stella mi scappa dall'opulare dopo pochi secondi me la sono persa perché in questo momento l'angolo orario di questo telescopio virtuale è perfettamente fisse vedete i punti all'ascensione retta crescente continuano a passare sulla mia sul mio punto di puntamento sul mio meridiano di puntamento è il mio aft che avevo fatico sia la sveglia che è scappato quindi quello che devo fare è fare in modo che la mia adesso lo raccoglio di nuovo devo fare in modo che la mia portatura sposti l'angolo orario con la stessa cadenza del primo rellogio siderale se no le stelle che sono corato di popolare lo direi a persona popolare che lo abbiamo scatto quindi o prendo qualcuno con una manovella per agire in maniera molto spadezzata o metto lì un motorino con una serie di granaggi fatto in maniera tale che la montatura se non le dico niente lei da sola si muove di modo siderale in questo modo l'angolo orario ripeto insegue l'oggetto che stiamo puntando noi questa cosa qua normalmente non la vediamo perché se io l'impiccionisco e vado un angolo di visione che permetta il nostro questo effetto di movimento è imperceptibile quando io comincio a stringere l'angolo di visione in grande stringendo il mio angolo in una signora di cielo sempre più piccola questo effetto non è più trascurabile anche in tempi umani quindi nell'ordine dei secondi quindi per chi assumere qual è l'utilità di quest'ora siderale che non fa tanto bene per capire la tua parte del telegiornale perché ogni giorno partirebbe 4 minuti serve per puntare un telescopio quindi se ne parla perché la sua utilità oggi non più così pregnante la sua utilità era proprio per puntare un telescopio quindi non è un gran che per regolarci le nostre vite infatti nessuno di noi ha mai sentito un orale di un film delle più nuove siderali quindi se ho per esempio fossero le 12 siderali in pieno giorno tra sei mesi sarebbero le 12 siderali in piena notte quindi per puntare il tempo forse è meglio usare il sole invece che il punto gamma sembra più furba come idea e quindi se noi vogliamo usare il sole vogliamo il tempo solare vero perché stiamo usando il sole c'è quella palla gialla che ci passa sopra la testa quindi che cos'è a questo punto una definizione di giorno potrei dire che un giorno è un intervallo di tempo tra due passaggi consecutivi del centro del sole sul nostro meridiano verde quindi il sole io sto lì con un cronometro vedo il centro del sole sul meridiano verde faccio partire aspetto il sole faccio tutto il giro quando rivedo il sole sul meridiano verde fermo per una volta e dico va questa è quella che è la durata di un giorno cioè no mi piace questo è il giorno con cui vogliamo vivere questo è il tempo che è indicato dai cosiddetti orlogi solari perché gli orlogi solari usano proprio l'uqua del sole ok ad esempio le pericchiamo e sembrerebbe di già certa regatura proprio quello che noi chiamiamo giorno e invece ovviamente non è così però qual è l'ora zero l'ora zero quando la scegliamo più quando l'ho fatto col colora siderale quando il punto gamma è sul meridiano alla combinazione alta ma la scegliamo quando il sole è sulla combinazione vasta perché vogliamo far partire allora modelli tradizionali che sia a zero quando è piena notte quindi scegliamo un'ora zero quando il sole culmina inferiormente noi non lo riusciamo a vedere però possiamo fare dei calcoli per sapere quando c'è con il calcio e quella si chiama mezzanotte vera perché stiamo usando il sole vero quindi il tempo trascorso da quando il sole è passato al meridiano inferiore fino ad adesso si chiama tempo vero tempo solare vero e si misura in ore minuti e secondi volendo fare delle formule che sono tanto belle il tempo solare vero che lo chiamiamo il tempo v vero è legato all'angolo orario del sole vero il piccolo v e porta a questa formula compilatissima il tempo solare vero è l'angolo orario del sole più 12 ore perché più 12 perché noi vogliamo che quando il sole passa sul meridiano si erano le 12 col punto gamma tutto sommato anche se la mezzanotte siderale è quando il punto gamma passa in alto tanto che mezzanotte però con il sole vogliamo che la mezzanotte sia quando il sole pulmina inferiormente e vogliamo che le 12 siano quando il sole è il culmine superiormente siccome ripetiamo con una volta quando un astro culmina superiormente è sul meridiano quindi c'è l'angolo orario di 0 quando il sole vero all'angolo orario di 0 il tempo vero è di 12 capi? come ne avevo già un po' anticipato ci sono due problemi nel giorno solare vero per il domicili la cosa ci infastidisce il primo problema è dato da questo l'inclinazione dell'asse terrestre ora faccio scritto cos'è xilopra quindi il piano dell'orbita ricordate che cioè sapete benissimo la terra ruota in orbi quasi circolare intorno al sole questo piano orbitale forma un angolo di 23 gradi e 27 con l'asse di rotazione quindi c'è un'inclinazione che è disegnata là questo fa sì che la nuvolta del gioco solare vero non sia costante quindi se noi misurassimo col cronometro faccio partire adesso aspetto che il sole faccia un giro fermo questo e faccio partire un altro oppure faccio un tempo intermedio e riaspetto che il sole faccia un giro guardo i due tempi e dico ho sbagliato non sono uguali ho l'orologio che sbaglia no ho l'orologio preciso ma i due tempi non sono uguali uno dei modini è questo quindi come diceva Sandro ci sono dei punti che sono gli epinozi in cui il sole sta andando sta rallentando quindi sta diminuendo la sua velocità via al massimo e quindi comincerà a ritardare arriverà sempre in ritardo arriverà in ritardo fino a momenti in cui ed è al massimo ritardo però comincia a recuperare e quindi il sole comincia a recuperare tempo per arrivare di nuovo più o meno con la stessa cadenza la stessa cosa succede dopo l'altro il quinozio comincia a ritardare fino a sostizio e poi ritardare tutto per un nuovo tempo quindi se io regolassi l'orologio su questo passaggio del sole vero sul meridiano di nuovo non va bene perché non ho un modo per legare questo fenomeno fisico che io voglio usare come orologio con un altro fenomeno fisico ad esempio l'ucidazione di un pendolo o fenomeni ancora più rigorosi che poi vedremo perché le due cose non mi coincidono nemmeno da un giorno all'altro quindi usare il sole vero non è un granchetto è vero che c'è l'evidenza che quando si è in pieni inverno quando le giornate sono veramente corti vicino al sostizio si deve che le giornate non si allungano continuano a rimanere molto corte quando si arriva a fine gennaio improvvisamente le giornate intese come ore di luce sembrano aumentare velocissimamente e quindi è il nome del sostizio un po' legato al fatto che il sole sembra star fermo quindi e in effetti sta fermo perché torni indietro nella visione degli antichi quindi al di là del punto matematico che tu hai proposto c'è anche un'evidenza così sperimentale il fatto che in estate a giugno le giornate non si accorciano dopo il 23 giugno le giornate non si accorciano sembrano non accorciarsi quando arriviamo ad agosto diciamo come si sono accorciate le giornate è perché in quel momento il sole sta correndo veloce ti sembra che corra veloce come altro in vero sta correndo un pochettino più veloce e quindi le giornate sono più brevi ok il secondo motivo è la seconda legge di Kepliero la ricordiamo un pianeta non si muove a velocità costante sulla sua orbita ma discorso di conservazione di che si conservano su sistemi isolati che è un pianeta è costretto a spazzare aree uguali dei più uguali questo cosa vuol dire che se l'orbita di un pianeta non è un cerchio perfetto ma è ad esempio un belissimo quando il pianeta è più vicino all'oggetto attorno a cui vuole quindi alla sua stella si sta movendo più velocemente perché perché le aree per essere uguali hanno bisogno di più angolo perché lui è più vicino quando il pianeta è più distante si muove molto più lentamente sull'orbita quindi questo effetto di un pianeta che accelera in un punto ed accelera nell'altro è un altro motivo per cui le giornate del sole etero non sono costanti nel tempo quindi abbiamo due motivi che tra loro si sommano uno con un periodo di sei mesi quindi che fa oscillazioni all'anno perché avevamo visto prima ritarda, accelera ritarda, accelera e una che invece ha un periodo di 12 mesi quindi c'è un momento in cui ritardo e un momento in cui accelera queste due cose qua si mettono insieme e creano un bel quindi l'effetto finale è questo che la durata del sole vero non è costante quindi noi non vogliamo usare il sole vero per regolare i nostri orologi e quindi ci dobbiamo inventare qualcosa che abbiamo il sole medio quindi creiamo un sole che non esiste che però è talmente comodo che ci permette di regolare bene i nostri orologi quindi qua noi vogliamo che i giorni abbiano la stessa durata in base a un contattore del tempo che non dipende dal mondo degli astri noi vogliamo contare il tempo con un fenomeno fisico che non sia il mondo degli astri ma contemporaneamente vogliamo che a mezzogiorno il sole sia sempre dato nel cielo vogliamo che a mezzanotte ci sia sempre il luglio e se vogliamo usare il sole scopriremo che questi giorni continuano a cambiare la loro durata rispetto a un altro fenomeno fisico ad esempio l'uscitazione di un petro quindi per arrivare dal sole vero al sole verde dobbiamo fare due manovre non ne basta nemmeno una abbiamo bisogno di inventarci due soli il primo sole lo chiamiamo sole fittizio e questo qua ci arriva uno dei problemi percorre l'eclittica ricordate l'eclittica l'eclittica visto che il pianeta terra si muove più velocemente quanto più vicino più lentamente quanto più distante l'effetto è che il sole noi vediamo che fa l'eclittica in certi momenti più velocemente in certi momenti più lentamente durante l'anno poi gli accelera e poi gli rallenta quindi noi vogliamo toglierci dai piedi questo questo moto non uniforme quindi ci mettiamo un sole fittizio che percorre l'eclittica con velocità costante e coincide col sole vero però alla figlia al periegio cioè quando la terra è più vicina e più distante al sole visto che l'accelerazione e la decilazione di qua sono uguali alla decilazione e alla decilazione di là se io invento un sole che cammina costante posso farlo uno che coincide col sole vero quando siamo alla figlio e quando siamo al periegio ovviamente questo sole vero percorre l'orbita di moto costante quindi verrà a un certo punto superata dal sole vero poi piano piano lo scuola lenta l'altro sempre costante lo raggiunge all'affeglio e poi di nuovo verrà di nuovo superato al sole vero e qua piano e poi quando il sole vero accelera lo riraggiuge al periegio quindi questo sole fittizio se ne cammina bello costante sulla sole fittica e qua ci leva dai piedi una delle due perturbazioni quindi ci siamo tolti la perturbazione della legge di Kepler con un sole finto a questo punto ci mettiamo un nuovo sole finto che si chiama sole medio e questo qua si muove sull'equatore celeste con velocità costante quindi e passa nel punto gamma e si muove un sole fittizio questo cosa ci leva dai piedi ci leva dai piedi il fatto che l'intinazione della terra e l'intinazione dell'ordine terrestre generava quelle due realità gli anticipi all'anno e quindi ci leva dal problema la perturbazione dovuta all'intinazione dell'intinazione elettrifica mi rendo conto che la qua non si capisca ma la qua si capisce il sole vero è giallo detto che è vero è giallo ok quindi il sole vero cosa fa al meridio c'è il punto in cui è più per distante sta camminando molto veloce quando ha raffeglio va un po' più piano poi quando muoveloce va più piano ma non solo c'è un discorso dell'ordine terrestre dell'infinazione dell'ordine quindi qua ci sono dei momenti in cui la ritaglia anticipa la ritaglia e anticipa quindi per togliersi nei piedi uno dei due problemi facciamo solo il fittizio che è quello che quindi si muove costantemente sull'epidica viene anticipato dal sole vero che poi perde perché all'epidico incidono da figlio poi anticipa il sole vero che sta andando piano fino a quando il sole vero li accelera e riconcigono di nuovo al periodo quindi il sole fittizio e quello grigio per toglierci il problema dell'infinazione dell'orbita noi andiamo a proiettare se noi consideriamo la proiezione la coordinata sull'equatore del sole grigio quindi il sole fittizio ci inventiamo un altro sole che è questo qua rosso che cammina costante la sua coordinata cammina costante sull'equatore e va a coincidere con questo sole grigio in un solo punto all'anno questo sole rosso che si chiama sole medio ci ha tolto dai quindi le due trombazioni non vedremo mai il cielo un sole di questo tipo se non i più particolari dell'anno però se noi rimodiamo questo sole medio abbiamo una durata del giorno che è in età costante quindi finalmente con questo sole finito abbiamo i due giorni che non coincidono il sole che passa sul nostro meridiano però abbiamo un tempo che è costante quindi possiamo continuare a misturare il tempo con un fenomeno fisico che non sia la votazione interrestre che però ci piace perché non mi ci fa unire in mezzogiorno più o meno questo è il motivo per cui quando studiamo i loro in ora con gli orloggi solari dovete fare le correzioni che poi vedremo quindi giorno solare media a questo punto la definizione è uguale a quello del giorno solare vero solo così a questo è vero quindi all'intervallo di tempo tra due passaggi consecutivi del centro del sole medio sul nostro mediano dura circa 3 minuti 50 sempre di strataggione sederale quindi i nostri orologi vanno carenzano su questo acqua quando tu guarda prima l'ora 0 quando questo sole medio ultima di sotto sul mediano inferiore e il tempo solare medio è legato a l'angolo orale del sole medio esattamente dalla stessa formula non cambia niente cambia solo questo sole e più regolari ci piace quindi il nostro tempo è il tempo trascorso dal passaggio del sole medio 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 inferiore e nel tempo che è indicato dal nostro orologio albinar si misura in ore e secondi medi quindi all'inizio quando si parla di giorni medi adesso sappiamo cosa vuol dire è un giorno che ha sempre questa durata e non in base ai momenti dell'anno ha durato diverse allora possiamo dire veramente che l'anno dura 365 24 22 giorni medi perché se dicessimo due giorni solari si ma di gennaio o di aprile perché non sono tempi uguali perché se vogliamo dei giorni che durano uguali non possiamo usare il giorno del sole vero però tempo solare medio sono comunque legati da una relazione che si può calcolare tenendo conto di quei due fenomeni che avevamo visto prima si chiama equazione del tempo e è ovviamente composta da due componenti una l'unità recente di città dell'orbita una legge di cheplero e l'altra dovuta l'infinazione dell'editica vi faccio vedere la fotografia dell'equazione del tempo la possiamo commentare non facciamo il favore per ricavarla allora quello verde è l'effetto dell'editica dell'ellissi dell'ordica quindi c'è il discorso dell'affeglio e del periello quindi ho indicato più veloce e più piano quella rossa è l'infinazione dell'ordica vedete che ha un periodo doppio durante i 12 mesi mentre la somma di questi due dà l'equazione del tempo che è questa curva nera questa curva nera è quella che dobbiamo usare se la stiamo misurando il tempo con una meridiana quindi se io misuro il tempo con una meridiana devo sommare o sottrarre questo numero di minuti in base al giorno dell'anno per avere qual è l'ora del sole meglio questa non si trova si trova la tabulata stanza cosa fa i suoi valori sono si trovano e questo è solo un grafico quindi quando leggiamo il sole su una meridiana stiamo leggendo il tempo solare vero per convertire nel tempo del nostro orologi dobbiamo sommare o sottrarre il valore indicato dall'equazione del tempo che la proviamo su internet a questo punto lo succedendo forse vale la pena e a questo punto tiriamo fuori un tempo che sia veramente universale perché perché le ore che abbiamo visto fino a tutta l'entrata l'angolo l'orario quindi guardate che l'angolo l'orario dipende dalla posizione qui vedranno ancora tutte le realtà cioè il mezzogiorno medio del sole medio sì che cadenza ci piace però quando voglio il giorno meglio se io mi muovo di un passo non è già più il giorno medio ok per me se mi sono meglio per quello che sta 10 km non vuoi ancora perché ancora legata ancora al nostro del piano però per tutti quelli che stanno sullo stesso del piano lo stesso e la differenza di tempo locale tra due e due viaggi geografici e pare a differenza delle loro longitudine se vogliamo scormalizzare tutto questo io ho che il tempo medio di un punto due meno il tempo medio di un punto uno quindi il tempo medio mio è il tempo medio di un arco è uguale alla differenza tra il tempo vero mio e il tempo vero dell'arco che è uguale alla differenza tra l'angolo orario mio e l'angolo orario dell'arco che è uguale alla differenza delle nostre longitudine quindi a cambiare dei longitudini questi tempi cambiano quindi se io volessi un tempo universale cioè che io lo dico perché è uguale per tutti cosa devo fare? devo fare questa cosa qua devo definire un meridiano riferimento su cui misurare il tempo solare il video si è scelto per tutti gli storici che faremo nelle longitudini e e quindi mi c'è scherzo si è scelto il meridiano riferente come il meridiano che passa per lo seremo per i primici quindi il tempo universale è il tempo solare meglio su quel meridiano e quello ovviamente non dipende da che siamo sulla terra quindi quando sono le tre utili universal time sono le tre università che io se qui che io si incida poi è chiaro che per convertirle nel mio tento solare meglio dovrò sommare la mia non città e dovrò sommare la sua però il tempo universale è uguale per tutti quindi tenendo conto che il tempo per la differenza tra i primi a differenza di noncitudini e tenendo conto che la noncitudine diventisce zero per un qualsiasi luogo della terra il tempo medio è il tempo universale più la noncitudine ovviamente all'ongitudine c'era sempre quella conversione da gradi ore quindi ogni 15 gradi di noncitudine contiamo un'ora l'implicazione è ovvia se io so l'ora un t di un evento astronomico in un attimo calcolo il quale è sul tempo locale basta sapere la mia longitudine oppure per calcolare la mia longitudine basta calcolare il mio tempo locale e avere un orologio che mi dà tempo universale questo è stato il problema delle longitudine su cui si sono impiati gli scienziati e i tecnologi nel del settecento perché le naviche a navigare non riuscivano a calcolare la longitudine perché non avevano la possibilità tempo locale potevano calcolare bastava prendere quello che passa a meridiano il problema era avere la conoscenza del tempo universale cioè di un tempo su meridiano di terribi le soluzioni poi erano due fondamentali una era avere un orologio e quindi questo ha fatto nascere l'invenzione dell'orologio e bisogna inventato un orologio l'altra soluzione era usare dei fenomeni astronomici tipo le posizioni dei satelliti di Giove le posizioni dei satelliti di Giove sono uguali sia che io sia a Greenwich sia che io sia in Cina quindi se io ho un libro scritto da un astronomo che è da Greenwich fa delle previsioni su come sono i pianeti satelliti di Giove nel tempo io da qua guardandoli posso sapere quale è l'ora di Greenwich gli erano di Giove di Giove sono un problema della longitudine queste totale sono andate in parallelo il motivo per cui Greenwich è il meridiano di riferimento è perché il sostenitore del sistema delle fasi dei satelliti italiane era Meschelina che era l'astronomo imperiale inglese e faceva la sua misura a Greenwich quindi pubblicava le sue pubblicazioni erano tutte riferite a Greenwich e quindi la gente ha cominciato a misurare la longitudine tenendo quello come il meridiano zero questo è il motivo per cui il meridiano zero è il meridiano di Greenwich e non è un po' e me i francesi non è un piano zero a Parigi cioè i francesi pubblicavano le loro cose e la storia era la storia di Parigi e quindi anche lì c'è stata tutta una bell'alliativa tra inglesi e francesi non è un piano zero deve essere quello di Parigi non è un piano di Greenwich poi siccome evidentemente le pubblicazioni di Meschelina erano molto più diffuse è stato un fatto che poi di fatto è un meridiano di riferimento e è diventato un meridiano di Greenwich poi la dice anche di mezzo all'ora legale per cui se sei in estate è diverso per calcolare cioè quando mi facciamo per esempio le foto che noi chiamo il PC eccetera cioè sei in estate devi calcolare a calcolare che qui si aggiunge e allora più dell'ora legale quindi noi adesso siamo noi siamo diffusi noi siamo diffusi 1 quindi rispettano il PC se noi vogliamo le 2 0 0 PC deve aspettare le 3 0 0 del nostro orologio destà oggi e 4 di inverno domani mattina deve aspettare le 3 ok questo è il fatto dell'ora legale in realtà poi l'UT1 è subito stato cambiato in l'UT1 che è un'evoluzione dell'UT1 legata alla rotazione della Terra e dentro su tutta la Terra velocemente l'UT1 è legata all'angolo di rotazione della Terra e qui torniamo rispetto a cosa? rispetto a dei quasar molto distanti si chiama l'International Celestial Referential Frame ed è riferimento per il calcolo di questo angolo di rotazione terrestre quindi in realtà quello che per usiamo è di dare un timido di nuovo in questo senso non scorre di nuovo costante in maniera perfetta perché seguo ancora le pizze della rotazione terrestre è ancora legato alla rotazione della Terra che ha delle perturbazioni saranno sempre più piccole però le perturbazioni ci sono quindi se lei avessi un orologio assoluto lasciamo stare con i significhi assoluto ad esempio regolato su certi fenomeni di fisica subatomica uno dei tuorologi restarete comunque indietro rispetto all'altro perché il T1 è ancora legato alla rotazione della Terra corso del medio ma ancora legato alla rotazione della Terra quindi abbiamo bisogno di un tempo che non dipenda dal tempo cioè che resti costante del tempo il problema è questo le misure viste fino ad ora si basano sulla rotazione della Terra quindi abbiamo un tempo assoluto e bisogna cercarne uno che dipenda da qualche altro fenomeno cioè quale è il primo che vogliamo cioè qua siamo un po' egoisti perché noi vogliamo un fenomeno un tempo che si va su un fenomeno fisico periodico il più indipendente possibile da altri fenomeni fisici tipo la rotazione dell'interveste e quindi ci sono due tempi le tiglieritari i reti e il tempo delle efemeridi vabbè vabbè è importante sapere che le osservazioni di 250 anni fissano un rallentamento secolare di 1,7 millisecondi ogni secolo questa è la rotazione terrestre quindi la realizzazione della rotazione terrestre è molto precisa a un periodo bene il suo scarto è stato misurato dalle selezioni di 250 anni che abbiamo il 1,7 millisecondi ogni secolo quindi questa rotazione terrestre ha un rallentamento secolare quindi nel tempo molto lungo di questo tipo qua quindi praticamente è una rotazione abbastanza a questo punto abbiamo trovato il primo tempo subito nel 60 i francesi generali eccetera eccetera ha calcolato come frazione della durata del anno troppo non ha volato il primo gennaio di 1910 di Greenwich il secondo quindi hanno fissato un certo anno troppo cosa significa e hanno deciso che la frazione di quell'anno lì nel meridiano di Greenwich calcolato tra le ore 12 era il secondo e questo secondo vale questa frazione dell'anotropico da dove deriva questo numero il numero deriva da 86.400 secondi che sono i secondi in un giorno per il 365 24-22 giorni che sono quelli di un anno troppo quindi è la trentuniglionesima parte dell'anotropico questa è stata trattata come definizione del secondo qua c'è una una piccola che si trova in un articolo siccome questa fare guarda basata su una certa forma di un certo di un fondo che era basata su osservazioni fatte tra 1750 e 1892 il secondo effemerite questo secondo in realtà coincide con il secondo solare medio del 1800 quindi secondo che stiamo usando oggi non è meno nostro secondo solare medio del 1800 quindi nostrologi sono cadenzati su questo secondo qua questo è riferimento dell'articolo dove è stato stabilito lo scritto chi si vuole leggere anche segnali quindi questo è scora diverso dall'ultimo che volevano vedere se l'ultimo ci andava bene l'altro tempo il tempo atomico internazionale forse non avete sentito parlare di questo è quello interdisciuto atomico internazionale quindi francesi atomico scusate il tempo atomico internazionale era stato definito sempre nel 1960 quando l'hanno anche relazionato con un fenomeno anche esiste mangiata con un fenomeno di fisica subatomica e hanno deciso di fare secondo tani uguale secondo quindi ragazzi due secondi infatti coincidono perché gli altri definiti uno l'hanno misurato l'altro l'hanno definito hanno fatto il modo che coincidessero il secondo taglio è il famose 9 miliardi di periodo di oscillazione del punto di 133 questo tempo qua a questo punto è indipendente dal mondo di rotazione della terra tranne del fenomeno di tipo artistico per noi che siamo solidari con il cesio che sta emettendo la radiazione è capito perché a me basterebbe sollevarlo un po' esatto c'è 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 il problema della gravità però per noi che stiamo in lo stesso sistema con la stessa gravità per noi si misura facendo una mente pesata del tempo di più di 200 onologi atomici che misurano queste oscillazioni del 163 questo è secondo il sistema internazionale che concide con secondo delle fedeli quello che aveva visto prima del 1820 come dicevo anche le tali come visto che coincide uno score diverso da un punto e quindi dobbiamo introdurre un mondo universale coordinato che deve riuscire a fare ma mettere d'accordo in tutto questo mondo di deliri questo è il internazionale internazionale finora più sempre indannato il internazionale di nostri logi è un pc quindi il secondo che riscatano i nostri onologi è il secondo del sistema internazionale e del secondo tari e del secondo et quindi non è il secondo un di uno prima che veniva tutti uno non è del secondo i nostri onologi e quasi in realtà non è quindi qual è il attagio tutti c che anche lui è indipendente dal voto di rotazione perché ci si ha togno problemi lasciamo stare i dettagli però ci siamo tolti la dipendenza dal modo di rotazione terrestre ma allora qua abbiamo il problema il tempo tc diverge da un t1 si scosta perché un t1 invece legata al modulo di rotazione che rallenta di 1,7 seconda ogni secondo invece il tempo tc scorre con sto cesion che fa le sue vibrazioni ok ma allora cosa vogliamo da una parte vogliamo un tempo misurato da questo secondo non si scosti da quello della rotazione terrestre cioè abbiamo due orologi che scordano diversi di poco ma diversi e noi vogliamo questi due tempi alla fine ci devono tornare come facciamo a fare in modo che due orologi che scorrono in maniera diversa uno che si chiama il libro e uno che si chiama in realtà poi coincidano come si fanno nel tempo due orologi che scorrono in modo diverso è facile ogni tanto ne scostiamo uno dei due cioè fanno uno dei due maniera e tac e andiamo avanti quindi noi ci inventiamo un sistema per tenere un tc sempre a non più di 0 9 secondi da 1 di 1 quindi un tc scorre con il cesimo ma quando un t1 che scorre con la rotazione terrestre si scosta di meno in un secondo noi cosa facciamo aggiungiamo studiamo un secondo un tc stile quindi questi quasi sono diventati secondo un tc stile o secondi intercalare qual è la definizione non è neanche la definizione 4 alla fine di un mese quindi quando al 31 o al 29 o al 28 di un mese la differenza tra otc e un t1 uno calcolato con gli orologi atomici l'altro calcolato dagli astronomi si avvicina a 0 6 secondi aggiungiamo o togliamo un secondo bisestile a 20 in questo modo ogni tanto un tc guadagna o perde un secondo per tenerlo non più distante di 0 6 secondi da un t1 questo evento per fortuna si muta da tutto il mondo e i secondi intercalare vengono annunciati dallo years che è un ente francese nel bollettino c quindi se volete andare a cercare il bollettino c dell'oyers lui vi dice quando bisognerà inserire il secondo intercalario quindi possono essere di due nature o il secondo resistile è positivo e quindi si introdisce il secondo 60 quindi il tempo scoprereà così 20 59 58 20 59 60 mezzanotte quindi c'è un secondo in più oppure secondo facciamo la fotografia c'è stato un momento il 30 giugno 2012 sabato è scattato il secondo 23 59 60 quindi quel giorno lì è durato un secondo in più perché se lo tempo un di Cisano è rimasto troppo indietro del tempo di uno ok e quindi hanno infilato un secondo del conto dice persa se ci fosse un secondo bisestire negativo si salta il secondo 59 quindi c'è il 23 59 58 finora dal 1972 in questa seconda di Sestile che anche lui sono sempre stati positivi finora non c'è stato bisogno di togliere un secondo mediamente ogni 18 mesi è stato togliere un secondo a calare e di solito questo è successo sempre o a fine giugno o a fine dicembre quindi ad oggi storicamente dal 72 a oggi la storica secondo bisestire è questa sono stati sempre positivi più o meno di 18 mesi e sempre a fine giugno o fine dicembre si definisce di uti la differenza del tempo universale 1 la differenza tra questo ultimo e utici quindi donale effettuare secondo bisestire di tenere sempre di uti hanno più di meno 0 9 più 0 9 secondi lo viene sempre limitato questo errore si c'era di tenerlo vicino insieme abbiamo una fotografia di minuti qua c'è il cero 38 qua c'è il 2013 qua il grosso c'è già il 2014 e questa è la differenza tra il tempo il tempo di 1 e il tempo di c vedete ogni tanto quando viene tra l'altro secondo intercalare si tengono sincroni questo salto qui è il secondo intercalare positivo qua guardate quanto tempo qui non è stato interdottore sul secondo intercalare qui due tempi sono passati abbastanza queste qua sono quindi hanno una linea della situazione del mondo della terra mutazioni oscillazioni non prevedibili dei pilunghi generano questo tipo di scosta di vita appena questo qua superato 06 secondi un secondo intercalare l'ha riportato in bordo quindi questa è la fotografia del secondo intercalare oggi a ottobre la differenza 1tc meno il tempo astronomico quindi quanti secondi intercalare sono stati inseriti il tempo astronomico è continuato a battere in maniera rigorosa il tempo 1tc invece si sono stati inseriti nei secondi intercalare per non farlo scostare troppo da ultimo fino ad oggi sono stati 35 secondi da talare dal 70 luglio ne ho le prove questo è il bollettino c dell'8 luglio e lo stabiliscono che dal primo luglio 2012 0tc fino all'ulteriore notizia l'utici meno tari e di meno 35 secondi quindi sti qua ci dicono che visto questo bollettino esce di solito agilirando o al miglio noi siamo sicuri che fino a gennaio il secondo intercalare resta da 35 quindi il famoso secondo di fine di cene 2013 non ci sarà non ci sarà secondo intercalare a 7 a gennaio c'era un bollettino e gli appassionati per trattare vedere se a gennaio per domanda adesso qua ma non hanno detto possibile che la terra abbia perso 35 secondi in 40 anni ma non aveva detto che perdeva un millisecondo ogni cento anni e in 35 già in 40 anni in 35 secondi ma perché ricordate che quando è stato formalizzato il secondo del sistema internazionale era già più corto del secondo solare medio e l'errore si accumula nel tempo aveva detto che in ogni secolo l'organizzazione resta dietro di 1,7 millisecondi ogni secolo ma il secondo è 6 e quello del giorno solare medio del 1820 quindi oggi nel 2013 il nostro giorno dura 1,7 secondi per 193 anni diviso 100 perché il secolo è un certo quindi dura 3,28 millisecondi in più quindi oggi il giorno di oggi è un po' qui quando dicono no più passa da tempo più i giorni mi sembra ancora no più passa dentro più i giorni sono tutti perché in realtà la terra sta lavorando quindi il giorno di oggi dura 3,000 secondi di qualcosina in più rispetto al giorno del 1820 ma qui in ultimo dei notari è di 3,28 secondi per 3,75 giorni di un anno quindi in un anno ultimo dei notari è di 1,100 mili secondi quindi un secondo avondante questo è il motivo per cui i secondi intercalari sono sempre positivi e ce ne sono già stati 35 in 40 anni ok perché poi per altri effetti non sono stati così tanti quindi rispetto ai 41 per 1,100 sono stati meno però non è così scupefacente che i secondi intercalari siano sempre positivi e che affendano circa ogni di 100 mesi perché il nostro orologi stanno battendo il giorno solare medio del 1820 e non il giorno solare medio di adesso quindi abbiamo 5,2 secondi più all'anno rispetto al 1820 occhio che questo qua è stato introdotto nel 1960 quindi perché uno di 18 mesi secondo me perché è stato introdotto nel 1960 e non nel 1820 no non assolutamente se la differenza è 1,2 secondi all'anno perché viene corretto il 18 mesi che dovrebbero essere circa 1,8 secondi io fai come lui che hanno scritto quell'articolo che ho citato prima questo ragionamento ha detto è secondo noi visto che comunque c'è stato un periodo di tempo che in realtà dicevi qui non c'era stato in su secondi intercalari cioè qua evidentemente sono delle alterazioni della rotazione terrestre né secolari né a breve periodo sono periodi intermedie e quindi ci aspettiamo che nei prossimi anni ci siano parecchi secondi intercalare per recuperare questi momenti lui ce ne sono stati troppo pochi cioè che intervengono secondo loro dei fenomeni che non sono né talmente brevi che si autocompensano nel giro di un anno né talmente lunghi come quello secolare di cui abbiamo una stima precisa che mi sono finito di quello che ho trovato scritto non mi sono chiesto fare misura astronomica e quindi secondo di qua dipendeva da dei fenomeni intermedi che secondo loro sarebbero sapere recuperati nei prossimi anni di quanto scritto sull'articolo perché era uscito un articolo prima scritto da alle che pensavano che questo ritardo fu un fenomeno relativistico e si veniva ma voi siete pazzi non è relativistico è molto più banale la situazione e ha spiegato il discorso di 820 perché il giorno è stato parlato bla 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 e hanno fatto tutti i conti alla fine concludevano con questa conclusione qui dicendo che secondo loro questo fatto che i secondi non fossero stati così tanti nessuno stupore che fossero sempre positivi sul fatto che non fossero stati così tanti come previsti da questo loro calcolo secondo loro era dovuto a perturbazioni con periodi interventi quindi troppo veloci la domanda è ovviamente assolutamente recitare e accolto nel segno loro come giustificazione le danno quelle io non ce la faccio così i fiorari se io mi sono tempo solare meglio qui mi sono tempo solare meglio a Venezia il mio orologio è diverso da quello di nel segno sedi di sono le 11 meno due no qua sono già le 11 5 ma perché il tempo solare meglio al tempo locale quindi è poco pratico per scampiarsi d'ora nel 1884 è stato proposto di considerare solo 24 meridiani geografici principali e di misurare il tempo meglio solo lì da cui fonsiorari quindi abbiamo affettato la terra in 24 meridiani tutti quelli che stanno sette gradi e mezza est e sette gradi e mezza oggest usano allora nel meridiano di in realtà poi i fusiorari seguono le frontiere degli stati se ci sarebbe l'altro problema che se un meridiano taglia uno stato in due un po' chi città di quello stato hanno un fuso è un po' meglio non sempre ci fuso si e gli stati di idea mangio hanno diversi un anquattro fusiorari però per strada un po' di ottimo in Italia arrivo in via un fuso orario solo vabbè da 023 per calcolare l'ora sul fusiorario si fa diversare più valore dei fusiorari quindi come diceva Fabrizio noi adesso siamo in fusiorario 1 in realtà scelchiamo sul due perché abbiamo un'ora legale quindi oggi sono le 11 l'ora ultimi sono le nove perché noi sono avanti di due ore domani quindi tra qualche ora ritorniamo con l'ora solare quindi il nostro tempo sarà 1 quindi noi continuiamo a passare da 1 1 2 1 quindi quando noi scappiamo le foto come diceva Fabrizio vogliamo riportare il tempo universale di quello stato perché quello è l'unico tempo di cui è senso parlare scambiarsi informazioni dobbiamo tenere conto che durante l'ora legale abbiamo toglie due ore e durante l'ora solare abbiamo toglie un'ora alle sostanze l'ora giù quindi 3 quindi invece a di anche a lì in questo caso sono hanno sono su 1 perché anche loro c'hanno loro legate calendario calendario lo salutiamo domanda che cos'è un'arma anche quali sempre sempre lo stesso quale è il sistema di riferimento banalmente la dotazione a tutte le volte che il sole ha fatto la sua etittica noi diciamo che è un'arma ma anche qua non è così facile abbiamo due casi ma la dotazione del sole sulle critica rispetto alle stelle fisse o rispetto alla terra quindi i movimenti in declinazione quindi abbiamo dovuto due anni perché questo punto gamma si sposta su un fattore quindi l'anno siderale è quando il sole è fittizio perché quello gloreale ci prova di riusci a quello che è quello che cammina costante quindi quando il sole edifizio fa l'unica quindi la considerare dura 20 365 giorni di ora 2 5 6 6 giorni solari edil ma non ci piace noi per l'anno le le stagioni a cosa sono legate le stagioni alla declinazione del sole quindi quando il sole passa sulle quattore poi chiam che sia del nozio cioè nozio voglio regolare l'anno sulle nozio e sostizio quindi noi troviamo l'anotropico quindi l'anotropico non è definito come un giro del sole sull'antipidica ma lo definiamo rispetto a noi quindi è il tempo tra due passaggi consecutivi del sole per il punto vernale visto che il punto vernale si sposta 12 15 anni fa un giro i due anni non coincide non volevo vedere questo è sapendo che il punto capo si muove il senso radio è più corto quindi l'anno tropico non dura 365 virgola quello che era ma 24 2 0 giovanni questa è la famosa durata dell'anno tropico 365 24 220 io ho visto l'arri di quale di cui scegliamo è perciò detto noi vogliamo che le stagioni d'anno si avviste i giorni dell'anno vogliamo che la primavera sia 21 marzo non vogliamo che man mano stagione si sposti durante l'anno quindi non possiamo scegliere l'anno del sole rispetto all'esterno ma dobbiamo scegliere un anno che concordi col punto capo così quando è primavera il giorno di primavera quando il sole passa dal punto capo lo vogliamo sempre al marzo quindi scegliamo l'anno tropico il suo inizio si sposterebbe comunque rispetto all'anno città tappiamo di tutto inserendo il famoso giorno di gestire qua c'è un po' di calendari di cesare si inventò calendario giuliano nel 46 antichrist 265 giorni è un anno di 166 giorni quindi la durata mese dell'anno qualche cosa è 365 giorni più di 4 perché c'era un giorno ogni 4 anni più quindi 365 22 che non è 365 24 22 0 anche se di poco guarda caso questi giorni non uccidono quindi l'anno di un'azione di un'azione di rispettano dopo 128 anni lo scantano il giorno e di tre giorni dopo 400 anni l'effetto è che gli stagioni cominciavano a slittare c'è la prima vera cominciata il 21 marzo ma cominciata a slittare si stava spostando durante l'anno e soprattutto che si spostava si spostava le feste staglie si spostava a Pasqua e a papa gregorio la cosa non ha ragione quindi papa gregorio si preso uno strombo gli ha detto di fare dei conti e riportami inizio dell'attimavera al marzo quindi ha revisionato la regola delle capole dell'anno bisestire quando l'ha fatto lo scatto era già 10 giorni quando è uscito quando ha fatto la sua polla ha stabilito che il giorno seguente 4 12 5 2 non era scelta ma era un 10 giorni tutti i calendari un colpo solo e poi ha sapito che non sarebbero stati disestivi gli anni secolari quindi centenari nel cui secolo non fosse divisibile per 20 e interlato qui il 1800 non era disestile il 19 non era disestile il 2100 la recente eccetera eccetera quindi si è riavvicinato ai famosi 365 24 22 in realtà questa regola fa 365 24 25 quindi non siamo ancora perfetti sul lato protico ma qual è lo scarto ma lo scarto qua è di 0 00 3 giorni ad anche quindi dopo quanto tempo abbiamo un gioco di scarto dopo 3 mila precede tre anni fra 30 dopo 3 mila tre anni basterà dirò che c'è un po' non esistere in più e riportiamo tutto in moda quindi non è più come prima che in 400 anni c'è 3 giorni ma tu pensa il discorso c'è pesa i quelli che avevano prestando i soldi interesse che c'erano dieci giorni che saltavano si possono schimmati ovviamente gli altri voleranno pagare che interessi perché c'erano 10 12 giornale studi di interessi come si possano passati cioè quando c'era quella volta è scoppiato però noi vogliamo che ci staciamo ci siano sempre 20 marzo vogliamo che gli orlogi picchi il tempo lo stesso modo vogliamo che vanno in primo centraio vogliamo un sacco di cose con un sistema che si muove come e quindi dobbiamo compensare in le modi tutte queste variazioni che